Buongiorno a tutti, io semplicemente vi riluggerò un minuto per fare dei ringraziamenti, per ringraziare tutti loro che si sono adoperati al meglio per mettere su queste organizzazioni che vedete, quindi il personale permanente, il personale volontario che ci ha dato tanto sostegno e poi la selezione nazionale di giurto, anche in un po' storico. La giornata è bella, mi sembra tutto quanto in ordine, quindi vedo i bambini che non mi do l'ora di cominciare l'attività, per cui vi ringrazio tutti quanti per la presenza, tutti quelli che hanno lavorato. La giornata è bella, mi sembra tutto quanto in ordine, quindi vi ringrazio tutti quanti per la presenza, tutti quanti per la presenza, tutti quanti per la presenza. Grazie.